Buon pomeriggio, siamo qui a via Nicolò Piccolomini, in una stradina situata tra Aurelia Antica e via Gregorio VII. Molto particolare perché ci si arriva dall'Olimpica, si gira per questa strada e davanti abbiamo San Pietro. È una visuale che spezza il fiato perché San Pietro sembra galleggiare sul niente da qui, questa cupola che solo da qui si può vedere, in questa maniera. Ovviamente questa è una strada molto battuta dai giovani, proprio a ridosso della cupola vengono a festeggiare i 18 anni, a brindare e vengono a farsi le foto, è proprio un punto turistico. L'hanno recintata da poco perché prima c'era solo il muletto, ci hanno messo anche la ringhiera e come possiamo vedere c'è sempre gente. La nota caratteristica è che allontanandosi dalla cupola, la cupola sembra ingrandirsi, poi vi faremo vedere la ripresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.